vi fa meno paura di farmi rapinaria perchè mi sembra più piccola ma voi è come un motorista che fanno i video non mi dire com'è più dopo le scelte le facciole si comincia a ciutare no esagerare è piccoloso ma non posso metterlo per niente a me non sono sci ma dove stanno? sono scombati si doveva far riprendere ma sono scombati ma è bruttissimo che sceglie mi tiro la testa mi tiro la testa mi tiro il mio cords mi tirò la testa mi sopra cipay mi siamo scoppi citiamo perca lì ricetta Sì, ora sono scelta! Se ne manderai! Ma sono scusa! Ma bene, si muove molto, ma com'è? Ma sono due bambini! Ma sono due bambini! Non c'è nessun problema! Non c'è nessun problema! Dai, andiamo pure noi! Sì, perché i ragazzi che li guardano? Andiamo pure noi! Andiamo pure noi, Dupo! Allora, signori, ti pari di test! Mi vieni, sto per commissare, guardalo! Dai, andiamo pure noi! Oh, ah! Mi vieni con il tuo panico! Qui sono dentro! E' un po' di piace! E' un po' di questo! È un po' di sì! E' un po' di sì! E' un po' di sì! E' un po' di sì! Grazie a tutti. 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 No, aiuto! 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 No, aiuto!